buongiorno buongiorno amici ed amiche del canale buongiorno dal vostro nick juve un grande abbraccio buon pranzo a tutti mi raccomando solito discorso come per ogni video like anche a questo video iscrizione al canale e condividete il più possibile quest'altro video perché anche questo come tutti gli altri hanno sempre quel qualcosa in più e dobbiamo e dovete seguirmi in questo e so che lo state facendo ve ne sarò sempre grato nell'immagine di copertina ci sono due personaggi di diciamo con un peso specifico diverso si capisce subito quella a destra sono io ragazzi quella a sinistra è il pirla il pirla che sembrerebbe essere usiamo il condizionale designato per questa super sfida sì come dite ma è maresca sì ricordate sei sempre tu maresca agghiacciande sei sempre tu sei sempre tu che vuoi fare il protagonista ebbene sì evidentemente ha scalato le gerarchie e è lui quello più indicato per riuscire a tenere testa in campo tenere testa alle panchine e accanto alle panchine e qua audio vado da un altro importantissimo membro doveri non doveri doveri l'arbitro doveri quello con lo beccato l'aeroporto con lo zainetto dell'inter che giustamente dal quarto uomo farà in modo di tener calme le panchine ma soprattutto qualora lei dovesse dire qualcosa di diverso magari chiamerà subito tramite auricolare maresca per farlo espellere quindi ovviamente in zaki può fare quello che vuole questo lo sappiamo però era per far capire perché la figura di doveri poi ci sono altre due figure perché ragazzi qua si tratta di figure di spicco ma non pensate a male figure di spicco perché qui non è che li mandano il sorteggio una volta rompevano le palle per le griglie le non griglie quello della sezione di qua non poteva arbitrare quello della sezione di là c'è una serie di rompimenti di palle dove tutti erano scontenti invece adesso non li scelgono proprio loro c'è loro valutano quale può far avere risultato ottimale e direttamente li prendono e li mettono e come stavo dicendo al var ci saranno altri due sembrerebbe continuiamo a usare il condizionale illustri e importantissimi colleghi di maresca e di doveri ossia irrati e mazzoleni altri due che con noi hanno sempre hanno sempre da sempre avuto una non so come volete definirla una corsia privilegiata un trattamento di favore un qualcosa di capito non capito che però alla fine andava a pannaggio nostro no ma non fa niente noi ce ne freghiamo ragazzi io dico solo semplicemente una cosa mi piace anche scherzarci su per quanto ci è poco anche da scherzare però dopo dieci anni che li abbiamo disintegrati ovunque io a un certo punto ho imparato anche nella mia vita essere anche un pochino magnanimo un pochino anche permissivo e anche è giusto essere porgere l'altra guancia come disse qualcuno molto più in alto di noi e se se poracci sono combinati come sono combinati con debiti a non finire con quello dalla cina che non è neanche andato alla premiazione della supercoppa in arabia per le restrizioni che ha e devono in qualche modo rientrare di qualche spiccio l'hanno già fatto il mercato di giugno alla fine zielischi taremi tutta gente a parametro zero cioè ragazzi questi sono combinati veramente male diamogli una mano cioè io capisco mettiamoci anche noi la mano sulla coscienza cioè questi qua a parte tutto che stanno per trovare un altro fondo che li acquisirà quindi rischiano sempre quando sono col culo surbaratro a fare come le scatole cinesi a trovare sempre un'altra soluzione ma al di là di tutto questi qua se non prendono qualche milioncino dal campionato alla supercoppa in arabia magari arriveranno in semifinale di champions questi stanno con le pezze al culo cioè per quello che pensano loro possono comprare la qualunque ma se sono onesti intellettualmente cosa che non esiste questa cosa nell'interista cioè e si rendono un attimino conto già dall'anno scorso con 250 milioni di euro intascati ingresso champions finale di champions onana hanno preso forse frattesi turam a zero poi pavard a zero quadrato a zero sanchez è ritornato arnautovic qualche milioncino cioè qui stanno tenendo a galla il sistema sta tenendo a galla una squadra che veramente ha debiti a raffica e sta bene a tutti e sta bene a tutti perché non vedo i vari commisso dell'aurentis lottito eccetera eccetera andare lì a blaterare e a esclamare cazzonerie come diceva dell'aurentis però quando c'era la juventus di mezzo le cazzonerie perché ci dovevano essere dei sistemi equi e un qualcosa che controllasse sulle partite cazzo se ne andavano a parlare ogni fine partita ogni prepartita cazzo le frecciatine adesso invece nella nell'essere molto molto furbi in questo azionariato popolare dove nella finale di supercoppa partecipiamo in quattro tra semifinale e finale così due tre milioni a te due tre milioni a me poi un anno dove lo vince il milan meritatamente con le cazzonerie anche dell'inter un anno l'inter poi un anno il napoli hanno creato questa quest'ambiente chiamiamolo sereno dove fanno in modo che non si lamenta quasi nessuno e dove alla fine passano anche per santi anche se adesso sono un po di partite che in più di uno stadio sapete solo rubare sapete solo rubare questo è il coro che fanno agli interisti quindi cari miei il tempo in cui facevate i verginelli e i puritani dal culo vi è finito e vi è finito da un po adesso fatevi aiutare anche in questa partita che a me dispiace pure io vorrei cercherò di fare in modo di mandare qualche messaggio qualcosa a qualcuno della juve per mettere qualcuno in più della next gen per darvi una mano a prendere questi tre punti perché veramente mi spiace che siate con le pezze al culo alla fine ancora tutt'oggi qualora dovesse vincere anche questo 72 anzi 71 trofei a 45 piano piano vi aspettiamo non abbiate paura mentre voi pensate alla seconda stella di cartone noi andremo a mettere poi la quarta stella au revoir un grande abbraccio iscrivetevi al canale like un saluto grande dal vostro nick juve al prossimo video ciao